Giornate sulla prevenzione odontoiatrica, secondo anno di questa importante iniziativa, siamo con l'assessore del comune di Cepagatti, Sborgia. Lo scorso anno un grande successo, una grande partecipazione di giovani, perché questo è un progetto riservato ai ragazzi. I ragazzi, sì. A Cepagatti abbiamo fatto già altri incontri per altre patologie, abbiamo fatto delle giornate importantissime per la prevenzione dei tumori della mammella, prevenzione dei tumori delle colon, per la prevenzione dei tumori della tiroide e abbiamo fatto circa 500 visite gratuite e quindi pensiamo che anche quest'anno dobbiamo affrontare con lo stesso impegno e sempre lavorando in rete per poter far sì che la nostra popolazione, poiché sia la popolazione che possa affrontare queste problematiche in maniera preventiva. Siamo con la dottoressa Maria Lucia Dancone per parlare di questa iniziativa. È importante perché, come diceva l'assessore Sborgia, bisogna prevenire e iniziare sin dalla giovane età. Purtroppo però noto che i genitori, pur consapevoli dell'importanza di una buona occlusione, mi portano i bambini a visita troppo tardi, quando ormai il problema occlusale si è manifestato. Spesso non si sa che è possibile fare qualcosa per evitare proprio l'insorgenza della malocclusione. Voi come istituto comprensivo di Cepagatti avete accolto a braccio aperto questa iniziativa. Per dare ai ragazzi la possibilità poi di costruire insieme alla propria famiglia anche un percorso autonomo e consapevole.